Si riaccende il dibattito sull'ex stabilimento Tacconi di Pomezia. Il complesso industriale situato nella zona di Camposelva era stato dismesso all'inizio degli anni 90, per poi tornare sotto i riflettori nel 2009, quando è stato votato un piano integrato per lo spostamento della cubatura e riqualificare l'area. Le proteste e la successiva battaglia giudiziaria avevano condotto al ritiro del progetto, risumato poi dall'attuale amministrazione nel 2020. Ora il Tar del Lazio si è pronunciato ordinando una verificazione tecnica ad opera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, aggiornando l'udienza al prossimo novembre. Siamo felici perché noi non abbiamo paura di quello che potrà essere verificato, perché è alla luce del sole, i motivi sono assolutamente oggettivi e sono verificabili. L'amministrazione comunale ha sempre affermato di aver spostato le volumetrie all'interno del complesso industriale esistente, peccato che non è così. La cubatura verrà spostata in questo lotto, in questo campo anche oggi agricolo e inedificato. Sono 140.000 metri cubi di cemento dell'ex complesso industriale che vengono semplicemente convertiti in edilizia popolare e palazzine per realizzare un quartiere ex novo in mezzo al niente. Questo avrà degli impatti sul territorio, non sarà a costo zero, impatti come traffico, impatti come problemi sociali, perché chi viene a comprare qui, noi questo ce lo chiediamo, e consumo di suolo. Ferma sulla propria posizione l'amministrazione comunale che insiste per la riqualificazione dell'area. Noi ovviamente siamo convinti di quello che è stato fatto, ricordiamo che l'intervento pone al centro una riqualificazione di un sito che oggi si trova nel degrado più assoluto ed è anche potenzialmente una bomba ecologica che deve essere sistemata nel più breve tempo possibile. Il nuovo progetto prevede lo spostamento di questa cubatura sulla maggior parte dell'edificazione già esistente e una piccola adiacenza di terreno agricolo che ovviamente è inferiore rispetto a quello che era previsto come intervento originale. Questo chiaramente permette di realizzare nuovi interventi come l'urbanizzazione di tutta la zona e permetterà di realizzare una rotatoria fronte tacconi, fronte intervento e via della Macchiozza, la realizzazione di una scuola in via della Macchiozza, la realizzazione di un parco pubblico, una pista ciclabile che collega la zona di Vicere con la via del mare. Quello che noi auspichiamo è che l'interesse dei cittadini venga come al solito prima di tutto e le battaglie senza una vera finalità pubblica soccombano poi in tribunale e possano valere quelle che sono le ragioni dell'ente che mette al primo posto quella che è la riqualificazione della città.